Che dire ragazzi oggi è arrivato il 25 agosto del 2016, vent'anni fa nascevo io e che dire sono colpito e vi ringrazio tra tutti gli auguri che ho ricevuto da parte vostra non solo da Facebook ma anche da vari sistemi di comunicazione quindi posso solo che ringraziarvi grazie mille a tutti. In descrizione poi troverete il link di questa fantastica canzone che per il mio compleanno ci tengo a dedicarvi. E' da qui che nasce il mio nome e soprannome Pepper dall'album Sgt. Pepper's Lonely House Club Band dei Fantastici Beatles. Vi auguro un buon ascolto.